Tempo Reale, speciale elezioni Ben ritrovati, Tempo Reale, speciale elezioni Siamo arrivati anche noi in chiusura con questa appendice elettorale alla nostra trasmissione del mattino Oggi ospitiamo il candidato numero 19 in questa nostra campagna elettorale nella quale abbiamo cercato di darvi un po' di indicazioni utili Diamo il benvenuto allora a Veronica Fabri che è candidata alla Camera per l'Udc al decimo posto Buongiorno Grazie, buongiorno Grazie signora Fabri di aver accettato il nostro invito Tra l'altro Andrea vorrei riprendere la canzone che ascoltavamo poc'anzi When a Woman Perché insomma non sono state tante le donne che abbiamo ospitato in questo studio Almeno io non ne ricordo Esatto, poche E quindi insomma è un piacere comunque anche avere una presenza femminile Donne che si impegnano in politica Tra l'altro ricordiamolo anche per dovere di cronaca Veronica è consigliere associato per la provincia di Rimini In maggioranza Associato perché? Perché ricordiamo che la Valmarecchia, l'Alta Valmarecchia è entrata a far parte della provincia in corso d'opera Quindi le elezioni c'erano già state E lei proprio come rappresentante dell'Alta Valmarecchia scende a Rimini per questo suo compito amministrativo Veronica, partiamo subito Per lei la prima campagna elettorale dal punto di vista elettorale Proprio perché nell'altra insomma è più un ruolo di presenza che non tanto di campagna elettorale Come sta andando visto che siamo quasi alla fine? Insomma è una campagna elettorale breve, fredda perché indubbiamente Facciamo tutto al chiuso insomma Però è una campagna elettorale come sempre stimolante Anche se è sempre più difficile parlare di politica alla gente Ecco perché ci sono queste difficoltà secondo lei? Abbiamo anche visto in questi giorni quanto la gente faccia fatica ad avvicinarsi appunto alla politica in questo periodo Beh credo che sicuramente la politica non ha offerto un buonissimo spettacolo È stata litigiosa, è stata poco seria, è stata spesso sovradimensionata anche nei costi rispetto alla vita della gente Quindi è sicuramente una campagna elettorale difficile in un momento di crisi economica straordinaria e terribile Che pesa sulle famiglie in modo gravosissimo E quindi parlare di novità, di responsabilità, di sacrifici è sicuramente impopolare ed è sicuramente estremamente difficile Andiamo proprio anche al suo partito, alle proposte che sta facendo in questa campagna elettorale Tra l'altro ricordiamoli in una scelta specifica di alleanza anche con altre forze Alleanza maturata in un modo un po' particolare anche in questi ultimi anni Guardando qual era il consesso parlamentare qualche anno fa forse non ce lo si poteva aspettare Però insomma delle forze che concorrono insieme Ricordiamo l'Udc sostiene il possibile premier Monti Il nuovo, sì esatto, possibile nel senso che chiaramente lui si candida per questo Tra l'altro anche con altre forze che escono dal Parlamento Ecco, come questa alleanza, come la legge e soprattutto quali sono le proposte principali da parte dell'Udc? Allora noi abbiamo fortemente voluto il governo Monti in un momento di difficoltà estrema dell'Italia In un momento in cui il bilancio dello Stato aveva le casse così vuote da rischiare di non pagare gli stipendi pubblici Ora in questa campagna elettorale Monti è diventato il male del mondo Fino a un anno fa è stato un po' il salvatore della patria Allora vorremmo un pochino ricordare da dove siamo partiti Quindi il nostro impegno è stato quello A un certo punto noi siamo usciti dal governo Berlusconi per senso di responsabilità Abbiamo avuto il coraggio anche di fare una campagna elettorale da soli Con la possibilità anche di uscire dal Parlamento così come hanno fatto altre forze politiche Siamo stati forza di opposizione ma di un'opposizione responsabile Che non ha fatto istruzionismo al governo ma ha cercato di migliorare i provvedimenti in cui credeva Quando siamo arrivati veramente quasi sull'ollo del barato Io sono stata amministratora a Nora Felta negli anni 90 come assessore all'urbanistica e vice sindaco E c'era allora una battuta Un sindaco che faceva campagna elettorale diceva Siamo sull'ollo del barato venite con me, votate per me e faremo un passo avanti Siamo arrivati quando noi sentiamo parlare della Grecia E abbiamo avuto il pericolo di ridurci proprio come la Grecia Era un pericolo del quale forse non abbiamo esattamente la misura Hanno ridotto gli stipendi dei dipendenti Hanno tagliato proprio le entrate alle persone Ora a noi questo non è capitato E grazie al governo Monti Ecco il Monti tecnico e il Monti politico Perché c'è qualcuno che in questo passaggio Insomma mentre prima lo ammirava anche per le scelte difficili Però anche per una statura particolare Poi quando si è messo a fare politica qualcuno ha cominciato a storcere il naso Forse ha cominciato a storcere il naso Perché io credo che Monti si sia sentito la responsabilità di continuare sulla strada fatta Sul lavoro fatto perché al momento della caduta del governo Monti Si è riscatenata quella politica urlata di promesse Fatta di cose veramente che secondo me agli italiani non piacciono E che hanno molto allontanato la gente Appunto dal dibattito politico E Monti ha creduto opportuno E noi siamo stati sicuramente maggiori sponsor Di, lui dice, salire in politica Di essere politica per il nostro paese Per continuare il lavoro fatto Ha parlato di Grecia Quindi introduciamo l'argomento Europa C'è chi critica un po' quella che viene definita Da alcuni eccessiva ingerenza europea Anche nelle vicende interne dei singoli stati Ecco, come vi ponete su questa critica? Io credo che il problema vero dell'Europa Sia che l'Europa non è abbastanza un'Europa unita e comunitaria Dal punto di vista politico Quindi l'Europa ha bisogno sicuramente di fare un salto di qualità E noi assieme all'Europa Anche noi cittadini, intendo Noi singoli proprio Abbiamo bisogno di cambiare la nostra mentalità Il mondo è Il nostro mondo è decisamente Più piccolo, più stretto Dove noi non possiamo pensare di essere forza nazionale E basta Noi siamo in un contesto in cui la finanza I temi economici Fanno parte di un mondo allargato Di un mondo che ha anche nei mercati emergenti Insomma, la necessità di una concorrenza, di una stabilità La critica che a volte viene mossa a Monti Quindi anche alle forze che lo sostengono è questo Sì, lui è amato e benevoluto Anche dagli altri grandi potenti d'Europa In primis la Merkel Insomma, che sappiamo in questo momento può fare la differenza Ma in realtà, per essere ben visto da questi altri potenti europei Rischia di essere in viso ai suoi cittadini Ai suoi concittadini Perché in realtà non ne fa davvero il bene Che come risponde a questa critica? No, direi assolutamente no Intanto abbiamo visto Monti ha restituito all'Italia Una credibilità internazionale Che l'Italia aveva perso Che insomma, veramente Eravamo ridotti In condizioni veramente penose E questo deve Io, così, parlando di Europa Credo che le giovani generazioni Comprendano molto di più Di quelle che partono dalla mia età in avanti Noi siamo fortemente legati ovviamente Alla dimensione nazionale Quando invece penso ai giovani Che si muovono, si spostano Che fanno le università Che fanno i master, i progetti Erasmus Ecco, ho una speranza davvero Che la nostra casa Anche politica però Sia l'Europa Cioè è vero che l'Europa Non deve rimanere Una comunità economica Questo sicuramente Parliamo di questioni concrete Che toccano i cittadini Parliamo di tassazione In questa campagna elettorale La parola IMU È insomma diventata Ormai un'abitudine Si parla anche Anche se un po' di meno Della TARES Che dovrà entrare in vigore Dal mese di luglio Se non sbaglio Ecco, qual è la posizione Dell'Udc Della compagine che sostiene Monti Su queste tasse Specie sull'IMU Perché insomma L'IMU è stata una bella botta Per tutti gli italiani Indubbiamente Io vorrei ricordare Che noi in modo impopolare Siamo stati L'unica forza politica Che a suo tempo In Parlamento Ha votato contro L'abolizione del LICI E non siamo masochisti Avevamo idea Dei conti dello Stato Avevamo idea Della gravità Che togliere una tassa Di questo tipo Che è sicuramente impopolare Che è sicuramente Grava Sui cittadini In modo Insomma Spropositato Anche perché la casa È veramente Per gli italiani In particolare Un po' il nido Quindi è Il nucleo Anche fisico Della famiglia Quindi L'IMU Sicuramente È stata Introdotta In modo Anche pesante Sulla vita Proprio dei singoli Dal governo Monti Per necessità Questo dobbiamo ricordarci Poi Avendo messo a posto I conti pubblici Allora La possibilità Di una Rimodulazione Dell'IMU Sicuramente Dovranno esserci spazi In questo senso Però Non possiamo Continuare A mettere la testa Sotto la sabbia L'importanza Di cercare risorse Soprattutto Le chiederei anche Queste risorse Come sarebbe bene Investirle Qualora davvero Riuscissimo a trovare Sì con la tassazione Ma forse magari Anche con altre strategie Che ci puoi indicare Infatti il problema Delle tasse È proprio questo A cosa servono Le tasse Le tasse Devono Noi abbiamo vissuto Un momento Di estremo rigore E adesso È il momento E la necessità Di creare Crescita e sviluppo Perché altrimenti Tutti i sacrifici Che abbiamo fatto Sono davvero Stati inutili E sicuramente Nelle prime Necessità Sono quelle Del far riprendere La crescita Delle imprese Del lavoro Delle famiglie E quindi Anche Pensiamo ad esempio Alla Alla lotta Fiscale La necessità È quella Di sgravare Il costo Del lavoro Un costo Del lavoro Che è abnorme Dove gli stipendi Sono esageratamente Bassi Per chi li riceve Mentre Costano Sul Sul datore Del lavoro Quasi Il doppio Quindi Questa è sicuramente La prima emergenza Parliamo anche Di turismo Un tema caldo Sul nostro territorio Il governo Monti Indirittura D'arrivo Ha predisposto Anche un piano Che mancava Un po' Per il settore Un piano Che non ha visto Tutti d'accordo Ma secondo Molti operatori Il turismo È stato un po' Snobbato In questi anni Di vari governi Che si sono succeduti Credo che sia vero Credo che sia vero Nel senso che L'Italia Ha un patrimonio Ambientale Storico Artistico Unico al mondo Che tutti ci invidiano E che è L'idea Dell'Italia All'estero E quindi Il piano strutturale Sul turismo Del governo Monti È forse La prima vera novità Noi abbiamo Eliminato Un ministero Sul turismo Quasi forse Un corollaio Del nostro Stato Anche con un referendum Ecco Questo credo Poi siamo A Rimini Che è una delle Capitali Del turismo Balneare Nazionale E il turismo Deve essere Una spinta Nazionale Il piano strutturale Nazionale È importantissimo Proprio perché Ci dà la dimensione Di una serie Di azioni Da fare A livello nazionale Tutti insieme Valorizzando il nostro Territorio Dalle Alpi Fino al Mezzogiorno E quindi Una serie Di azioni Integrate E Programmate A livello Centrale Io credo sia Indispensabile È davvero Una novità Parliamo anche Di un altro tema Che in qualche modo Era stato affrontato Dal governo Monti Quello del riordino Istituzionale Quindi anche Dell'ipotesi Insomma Sembrava per un certo Periodo davvero Fattibile Della scomparsa Di alcune province Quindi dell'accorpamento Di altre Ecco forse qui Lei gioca tra l'altro In un settore Che conosce molto bene Perché voi Come Alta Valmarecchia Avete lottato tanto Anche per entrare In provincia di Rimini Poi c'entrate Dopo un po' Questa provincia Quasi sembra scomparire Però in realtà Essendo anche dentro Al consiglio provinciale Forse si rende conto Di quelle che sono Le virtù Ma forse anche i limiti Di questa Particolare realtà Che cosa ci dice? Allora Ovviamente La mia è una posizione scomoda Un po' di conflitto Di interesse Un po' di conflitto Di interesse c'è Nel senso che Le province Sono state E sono tuttora Per i cittadini Una vicinanza importante No? Un punto di riferimento Importante Detto questo Ciò non toglie Che la necessità Di ammodernare La struttura pubblica Del nostro Stato Io credo Sia indispensabile Ci sono Proprio Nei confronti Dei cittadini Una marea Di attribuzioni Di funzioni Di sovrapposizioni Di balzelli Burocratici Che io credo Non siano più Sostenibili Per uno Stato Che vuole essere Moderno Che vuole andare In Europa Noi dobbiamo Fare un salto Di mentalità Anche rinunciando A piccoli privilegi Locali Territoriali Per avere Una struttura Di uno Stato Che sia efficiente Che non sia schiacciato Da una macchina Burocratica Che veramente Non è al servizio Dei cittadini Secondo molti A prescindere Da chi vincerà Sarà necessario Una volta Saliti in Parlamento Trovare degli accordi Perché non si prevedono Maggioranze schiaccianti Specie al Senato Come vede Questa situazione? Per molti Sarà un governo Breve Io spero di no Perché noi abbiamo Bisogno di stabilità Quindi Le forze politiche Che saranno poi Chiamate a governare Io spero Che abbiano La possibilità Di farlo Perché noi Non possiamo Continuare Non possiamo Permetterci Continue campagne Elettorali Dove Si sprecano Promesse E non si riesce Poi invece Ad attuare Le azioni Quindi Io L'Udc Ha dimostrato Che può stare Anche all'opposizione E in questo Stare all'opposizione Però non significa Né togliersi La responsabilità Del governo Né Insomma Vuol dire Sempre fare La propria parte Con senso Di serietà Di responsabilità Con lealtà Verso gli impegni Presi con la gente E quindi Io credo Che ci saranno Provvedimenti Che si potranno Fare Indipendentemente Da chi Poi sarà Chiamato A governare Ma dopo lunedì Visto appunto Se è così Come ci dicono Al momento Insomma Perché poi Qui è talmente Fluttuante Questi dati Che non ci sarà Qualcuno Ad avere una maggioranza Forte Da poter portare avanti Un governo In modo autonomo Secondo lei Possibili alleanze Su questo Monti è stato Un po' Tirato Per la giacchetta Da tutti Da sinistra Un po' Anche da destra Insomma Poi adesso C'è Grillo Sono tante le voci Forse proprio Da campagna elettorale Forse sì In parte sì E in parte Ripeto C'è quel senso Di responsabilità Di Quel senso Dello Stato Che l'Udc Come forza politica Ha sempre dimostrato Che ci porterà Probabilmente Anche sui singoli Provvedimenti Ad essere Forza Di sostegno O meno A quello Che verrà proposto Ci rimane poco Però una battuta Gliela vorrei chiedere Signora Fabri Sul tema della famiglia Lei lo ha un po' Accennato Lungo anche Gli altri suoi interventi Però direi che è un punto Cardine in questo momento Per l'Udc Tra l'altro Di fronte a forze Che invece un po' Stanno un po' Portando questa famiglia Su altre vie Eh sì Mi fa molto piacere Questa domanda Nel senso che La famiglia L'abbiamo visto bene In questa crisi È stato il primo Ammortizzatore sociale Eh del nostro paese La famiglia che Eh ha avuto La sussidiarietà Di aiutare Chi ha perso il lavoro Chi Eh Ha 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 La necessità Ad esempio Penso ai disabili Agli anziani Ai giovani Eh Alla difficoltà Per le famiglie Di pagare L'università Le tasse universitarie Ai figli Ecco questo Noi crediamo Che la famiglia Sia veramente La cellula Della società Che abbia Un valore politico Nella società civile Eh oltre al valore Appunto civile E sociale Che tutto conosce Che tutti conosciamo E eh Credo che le politiche Di welfare Eh Relative alla famiglia Siano indispensabili Alla nostra società Chiudiamo allora Con il consueto Appello al voto Perché fare la crocetta Sull'Udc Allora intanto Io ho sentito Parlare In questa campagna Elettorale Di un voto utile Bene Non facciamoci Eh Prendere da queste cose Perché Ogni voto Ogni idea Merita di essere votata E io credo che l'Udc Eh Porti una serie di valori E di E appunto Di esperienze Che vanno Sicuramente Eh Valla pena di votare Allora io chiedo I vostri telespettatori I vostri ascoltatori Radiofonici Di mettere quella crocetta Perché gli uomini E le donne dell'Udc Hanno valori condivisi Eh Che sono riconoscibili E quindi Eh Chi si sente Di appartenere a questi valori Credo che faccia bene In vota Udc Ringraziamo allora Veronica Fabri La nostra ultima ospite Chiudiamo Chiudiamo con Veronica Questo percorso Tempo reale Speciale elezioni Però ricordiamo L'appuntamento di lunedì Lunedì diciamo Appena si saprà Qualche presunta Ipotesi Insomma Verso le 4 4 e mezza Forse saranno i primi dati Davvero poco Ancora utili Però noi ci saremo E poi continueremo Fino a tarda sera Per cercare soprattutto Di accendere il focus Sul nostro territorio riminese Per capire se andrà insieme O magari un po' Diversamente dal resto Dell'Italia Veronica grazie davvero Di essere stata con noi Grazie a voi Tempo reale però Nella sua versione consueto Corre domani Domani mattina A partire dalle 9 e 10 Tempo reale Speciale elezioni